Ciao a tutti ragazzi, io sono Golden Yoshi e oggi con noi ci abbiamo un quadro! Ok, oggi faremo una Bedwars in sostanza, molto semplice no? Sì, oggi faremo una Bedwars. E la vinceremo? No! No! Però... Prevedibile! La faremo! Sì, ci proviamo e ci muoviamo! Allora raga, oggi vi devo dire una cosa, c'era questo qua che ha detto Voi siete scarsi su Fear Games, poi gli ha detto, che cos'altro aveva detto? Io sono uno youtuber e io gli ho scritto buon per te, e in partita gli rompo il letto, lo uccido e lui è stato zitto, come dire, ma guarda sto pezzo lì, non si può dire l'aggettivo. Che poi... Allora, spiegatemi sta cosa, perché c'è gente che ti dice che sei Nabbo, ti uccidi un tizio e questo tizio ti dice, oh ma tu sei Nabbo? Ma se ti ha ucciso sicuramente non sarà Nabbo, anzi sarà più forte di te. Ok, ci compriamo una bella spada, un bel po' di lana, ci prendiamo l'oro, lo mettiamo qui. Color, guarda già dall'isola dei diamati, guarda dall'isola dei diamati chi c'è. Eh, ho già visto troppo, troppo i miei occhi hanno... Allora, organizziamoci per... Ci sono degli ospiti... Indesiderati. Esatto. Guarda lì... Le classiche persone che non sono state invitate alla festa, perché l'ora... Ah, no, dai, ora questo vuole usare la tecnica, quella lì della torretta, che si fa la torretta in alto e mi uccide. Siamo morti tutti e due, color la volpe, quanto è guerrito. Madonna, adesso ce lo asci... Oh, eh, 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 certo. Ti vengo ad aiutare. Più chi, Laura, please. Più chi, Laura, please. Ti vengo ad aiutare. E quanto ferro hai? No, no, aspetta, mi dai tre di ferro. Solo tre. Eh, va bene. Tieni tre di ferro. Te ne ho dato quattro, però, vabbè. Uno maggiare alla casa. Ora ci prendiamo anche l'armatura in ferro, che è bellissima. Bellissima, comod... Oh, c'è... Oh, c'è pink. Oh, c'è pink, però, c'è rosa. Ok, ci serve una pa. Eh, sono arrivato in due. Uno è arrivato a casa nostra, bravi. No, l'ho fatto cadere. Eh, 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 c'è l'armatura in ferro. Però non c'ho... Più blocchi. C'è uno in base. Vieni. C'è sto... Sto bacco. Cosa in base? Uccidio, uccidio? Sì. Ce l'ha fatto? Bra. Oh. C'hai del ferro? Scusate. Non è poco, zio, mi servono per i blocchi. Cosa, scusate, hai detto una parola. Eh, ho detto una brutta parola, dai. Taglia, taglia, taglia. Se lo riesci a individuare, taglia. Tranquilli, ragazzi. Con l'editing si può fare tutto. Tanto non timonizzano. No, porco! Che è successo? Se dicevo una brutta parola, mi toccava tagliare di brutto. Eh, scusami. C'hai... No, 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 no. Ma il letto dei rosa è stato distrutto. Sono stati eliminati dall'esistenza, dalla vita. Però il rosso vuole venire a casa nostra? No problem, no problem. No problem? No problem. Ora ci muoviamo. No, no, sei tranquillo. No problem. No problem. L'ho colpito, l'ho fatto cascare. in teoria ecco appunto è morto io sono morto da danno da caduta però lui è morto a mano mi chiamavano lo yoshi olimpiaco sì perché io sono lo yoshi più forte del mondo naturalmente sto scherzando però sono o cosa sto facendo ma l'hai buttato giù no che fatto allora il contrario ho fatto un trick da proprio vp con il blog boh ok allora lì c'è il verde purtroppo aggiungerei vabbè abbastanza abbastanza lontano c'è anche una bella tnt e quando io c'ho tnt sai che vuol dire allora adesso guarda facciamo una bella cosetta ovvero guarda tu stessa cosa vuoi far o di non hai visto delle cose hai fatto il pool però nella base del pink l'hai fatta nella nostra base io non vedo le particelle è la base del pink quella del rosa però dovrebbe essere nella nostra base di boh vabbè lasciamo stare la che mi devo comprare dei blocchi c'hai dei blocci del ferro mi dai un lingotto d'oro uno solo va bene però c'è del ferro si ti do metà c'è tutto questo ferro si ricco te volevo solo i soldi i soldi comunque ho perso la tnt no eccolo qui come l'ho detto allora i rossi potremmo andare dai rossi o i gialli io potrei andare dai gialli però c'è nel letto abbastanza coperto i rossi c'hanno armature in diamante qui c'è uno smeraldo però per ora non lo prendo i rossi non c'hanno niente come armature c'è volevo dire non c'hanno niente come bardatura per il letto e infatti mi era perso di sentire che c'erano che erano i full diamond oh sì vabbè ma il giallo mi ha dato un knockback incredibile t'ha fatto volare 35 t'ha fatto volare 35 ok va bene siamo attenti ma volare volare mi sono spaccato le ginocchia però come ho detto prima io sono lo yoshi olimpiaco ok non so se andare dai gialli allora aspetta sì vabbè ci posso andare però che fa tanto knockback però vedendo dei video su youtube ho imparato che questi non sono hacker ma semplicemente o cliccano tanto ho preso sharpness vabbè questo ma questo che è ma che fa questo ma che fa sì sì lo so da knockback ma non è tanto per il knockback cioè come si muove ha fatto tipo così sì è l'amato è l'amato non è tanto per il knockback è tanto per come si muove lo so si muove si muove strano quelli stanno andando dalla base dei rosa a robarsi tutti i materiali visto che non ci sono più oh già ma la base dei rosa è vicino alla nostra base infatti stanno appena venendo però uno è caduto giù guarda ma che fa ma si teletrasporta anche lo so per killare c'è un cuore è stato distrutto quindi possiamo ucciderli eh già infatti sta scappando eh fa male perché tu sai benissimo che a color non si sfugge tu sai benissimo che ora siamo morti perché i rossi c'hanno c'hanno l'armatura in diamante eh vabbè gg per loro non so che dire che poi è qui che abbiamo creato sembra una bandiera che abbiamo creato mi sono fatto male alle ginocchia aia mi sono rotta una gamba c'hanno l'armatura in diamante si vabbè allora color vieni qua aspetta dobbiamo avere una tattica che tattica vuoi usare? volpe pigra non è una tattica quella bocciato si camperata bocciato perché non vale camperare scusa? no 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 non vale camperare ok dobbiamo mostrare allora proviamo a fare una roba di genere ma mi fa buildare aspetta oh zio c'è un rosso l'ho capito ecco perché ho detto che oh zio c'ho viene viene rosso si vabbè che è knockback si vabbè manco io non so se l'avete visto però dalla mia base sono arrivato in norvegia in pratica se vabbè ma vai via almeno l'hai ucciso gg ci aveva 4 diamanti e 2 smeraldi madonna questo c'è un po' di soldi ci aveva giusto un po' di soldi soldi siamo rimasti noi due contro i gialli contro i rossi chi saranno i primi a morire? noi ma è prevedibile allora ma no fa una roba del genere ma ci moriamo non ci moriamo si chiama ci camperiamo un po' diverso perché che builda così che lo sento ok golden si vabbè lascia stare la coniglia che succede? no niente oh madonna ok ok io nel mentre prendo un po' di diamanti che ci possono sempre fare comodo ci abbiamo un bel ma ci abbiamo già ci abbiamo un bel protection 1 no 2 stai dicendo no 1 che stai dicendo? l'ho preso prima il 2 ma ce l'abbiamo 1 stai sicuro? ah no ci abbiamo il non so perché ma se io premo se io apro l'inventario mi dice che ce l'abbiamo 1 però se io vado anche a me da babbo natale in questo caso se io vado da babbo natale che si mette a dire che si mette tutto a fare così con la barba guarda abbastanza inquietante sta cosa comunque mi dice che c'abbiamo protection 2 strana sta cosa però non ce l'abbiamo vabbè fa niente quindi sono scomparsi sono no ecco ora ci sono i rossi mi uccidono no zio non ti consiglio zio ti danno zio ci crepi zio zio ci crepi sono morto no peccato spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like se volete allora lasciate dislike se non vi è piaciuto però la leggenda narra che se si preme questa sirena che se si preme il tasto dell'iscrizione questa sirena si metterà a suonare ciao 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 Grazie a tutti.